Sender SOS I hope that song won't get smart I hope that song won't get smart I hope that song won't get smart Messaging a bottle Un messaggio nella bottiglia Messaging a bottle Messaging a bottle Sender Messaging a bottle Non male Però mi tocca abbassare ragazzi Dai farò l'ultimo video della serata Insomma ho fatto il video prima Poi ho guardato cosa veniva giù Io non ci voglio di essere critico Ma però a un certo punto Non sapete che c'è? A me cadono i coglioni per terra Mi cadono i coglioni per terra Mi cadono i coglioni per terra Madonna mia sottissimo Mi cadono le palle per terra Perché? Tutti quelli che vedo qua Devo riparlare del signor Bisanti Ma nooo Posso dire una cosa? È un pagliaccio quello lì Ma veramente è un pagliaccio Un pagliaccio Un pagliaccio Un pagliaccio E' 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 un pagliaccio Ma torna a fare il carabiniere che è meglio Cretino del cazzo Eh Non sarà politicamente corretto questo video Allora dai Cazzo durante l'epoca Dove ci hanno chiuso in casa Io ho iniziato a guardare E' la verità A manetta C'era un cazzo da fare Ero a casa chiuso in casa Più o meno chiuso Poi non mi sono mai tolto Granché di libertà Io se dovevo uscire uscivo Però Alla fine era tutto chiuso Che cazzo fai? Cioè vai in giro come un coglione A prendere multe Che poi dopo non paghi Però insomma E' inutile no? E per cui lì Insomma ho passato un bel po' di tempo a casa no? E quindi ho iniziato a guardare Tutta una serie di personaggi Che insomma Mi ha fatto compagnia no? Quelli che dicevano Quello che penso Cioè Più o meno quello che dicevano Quello che pensavo io no? E però questi qui hanno cavalcato l'onda Sono andati avanti no? Hanno visito visibilità E va bene Sì però Allora Salvo solo il Greg Gli altri Gli altri non mi salvo Un branco di cazzoni Di dimensioni bibliche Ecco Un branco di cazzoni Di dimensioni bibliche La controinformazione La controinformazione Alla fine La controinformazione Ha gli stessi interessi dell'informazione Cioè l'informazione istituzionale Si fa pagare dal sistema Invece la controinformazione Vorrebbe farsi pagare dal sistema Ma non ci riesce Non ce la fai Allora Trova delle vie traverse Per entrare nel sistema E praticamente È questo no? È questo Eh sì È così È come uno Che dice Cazzo ma quelli lì Sono Eh Sono Venduti Però Vorrebbe Vorrebbe essere Anche lui parte Del Del progetto No? Solo che è fuori E allora cerca di entrare No? E allora Dice delle cose Magari dice delle cose Interessanti E poi Cerca di entrare In vie traverse Appena c'è un minimo di visibilità Si vede l'anima No? Si vede Fantastico Fantastico Cazzo Fantastico Ma esistono ancora gli uomini E non voglio escludere le donne Esistono ancora gli umani Leali Coerenti Integri Esistono Mmm? Questo bisetto è un pagliaccio Figa Ma adesso Non ha bisogno di pubblicità Che ha più visibilità di me Ma è un pagliaccio E mi sono disiscritto Però ogni tanto Mi vengono giù Mi La piattaforma Mi Mi propone i video E magari vedo 30 secondi Poi mi rompo i coglioni E basta E finisce lì No? No? Vabbè Tutti hanno qualcosa da dire No? Tutti Tutti hanno qualcosa da dire Ci mancherebbe altro Però questo qua C'è C'è Ha cavalcato l'onda Durante La pandemia E' un cazzone Figa E' un cazzone Di dimensioni Non so perché neanche ne ho fatto un video E no Però lì mi ha toccato Eh Lì mi ha toccato un po' Perché quando uno si mette a parlare Di adozioni E dice minchiate Eh Insomma Un po' di sensibilità Diciamo Un po' di sensibilità Adesso sembra che ce l'ho solo con questo Ma sono tutti uguali Tutti uguali Tutti che cercano un posto al sole No? Un posto al sole Io non cerco un cazzo Esprimo quello che mi viene in testa Esprimo quello che mi viene in testa Che parlo di Lao Tzu Di Castaneda Poi magari Si approfondiamo Magari ci conosciamo Ci parliamo di persona Ci annusiamo E questo è La ragione per cui metto i video no? No A fare propaganda del cazzo Propaganda contro propaganda Propaganda contro propaganda La guerra dei poveri Magari Dai basta Chiudiamola qua Non ne ho nominati altri Ma comunque Il Greg Il Greg Il Greg Tutto sommato È più positivo che negativo Perché comunque Da informazioni Da ragionamenti Poi Non sono un fan Di nessuno Ascolto dei video Guardo dei video Seguo dei video E ogni tanto Da dei contributi Veramente Molto interessante Molto interessante Poi è un cazzo di Di vanitoso È la vanità Il mio peccato preferito Il mio peccato preferito Ma 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 anche no Quello del diavolo Io non sono diavolo detto questo penso di aver fatto un video così un po' leggero saluto tutti dai che domani è venerdì dai che domani è venerdì dai che non dovete finire di lavorare e non ci avete da rompervi i coglioni per due giorni a fare un lavoro di merda che non vi piace solo per lo stipendio alla fine del mese dai che è venerdì zio cane figa nastro buonanotte amici miei ciao dai insomma ogni tanto anche io faccio un po' il farfallone di nuovo ciao